E' tutto pronto ormai per il calcio d'inizio del match tra Roma City e Avezzano che parte in questo istante. Terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D. La sfida tra Roma City e Avezzano sale il 14. Buono il pallone per Mancino, la rigore Mancino, il cross è dentro e la spera che entra in porta. Rasi sblocca l'incontro di Roma City, bravissimo Mancino a ricevere il passaggio di Dojan, poi il cross nel mezzo e alla fine Rasi ha trovato la deviazione vincente. 1-0 per il Roma City, prova a illuminarsi Mancino, bravissimo nello stretto, Raffini al limite di rigore, Raffini dentro, Mancino può girarsi a terra, Donatangelo Mancino per Ricci, palla in porta! Il raddoppio del Roma City, la firma di Ricci che batte Coco, fa 2-0 contro piede magistrale del Roma City, bravissimo Mancino che va a prendersi l'abbraccio dei compagni. Grandissima parte di questo gol è merito suo, classe 2003, talento puro Mancino, bravissimo. e arriva in questo momento la fine dell'incontro, Roma City batte Avezzano 2-0 con i gol di Rasi e Ricci.